Primo tempo da 6,5, secondo da 4,5, il Pescara ha pagato pesantemente Dazio alle assenze. Ma sì, sono d'accordo nel senso che abbiamo fatto un primo tempo abbastanza equilibrato, mentre nel secondo tempo abbiamo sbagliato l'approccio all'inizio ripresa e l'abbiamo pagato perché dopo il primo gol forse dovevamo stare un po' più attenti e mantenere un attimo la partita in equilibrio. Invece abbiamo subito preso il 2-0 che dopo pochi minuti è stato un colpo pesante. Vincenzo, da capitano, come ti spieghi questa discontinuità? La squadra che va oltre i suoi limiti a Reggio Emilia, addirittura porta a casa la vittoria in nove uomini. Poi affronta la Cremonese che naturalmente è una cilindrata superiore, questo va detto e ribadito, però non si è vista quella garra, a parte il primo tempo. Sì, questo è sicuramente un aspetto su cui dobbiamo maturare parecchio e velocemente per ottenere prima possibile i punti per la salvezza perché appunto sembra che magari dopo una vittoria importante come quella di Reggio Emilia ci sia stata una sorta di rilassamento anche non voluto. Mentre invece dobbiamo capire che il nostro campionato sarà probabilmente questo da qui alla fine, nel senso che siamo tutti mischiati in questa lotta a salvezza e dare continuità a una vittoria così importante come quella di Reggio Emilia sarebbe stato importante. Mantenere le partite in equilibrio lo è ancora di più. Si è parlato della posizione di Valdifiori, secondo me ha fatto una buonissima partita, diciamo che ha diretto la difesa quasi da libero. Va solo che ringraziato perché si è veramente sacrificato a cospetto di due giocatori come Strizzolo e Ciofani che non sono proprio gli ultimi di questa categoria. Sì, lì c'era un mismatch sul piano soprattutto fisico, però ha tenuto benissimo con Strizzolo, anzi lo ha limitato alla grande, con Ciofani qualche difficoltà, ma ci può stare. Beh sì, perché poi forse dovevamo essere forse più noia a guidare certi movimenti, mentre invece lui ha diretto bene e ha dato una grandissima mano alla squadra, ha dato grande disponibilità in un'emergenza del genere. Senti Vincenzo, volgiamo lo sguardo al prossimo futuro, si chiama Salernitana, ha perso tre partite nelle ultime tre con dieci gol al passivo. Sì, è una squadra che fino a qualche domenica fa era in cima e stava facendo benissimo, sta attraversando un momento che nel campionato di Serie B capita più o meno a tutti in momenti diversi, solo che noi adesso a prescindere dall'avversario dobbiamo raccogliere punti su qualsiasi campo e in qualsiasi maniera. Castori sappiamo benissimo che tipo di spirito riesce a trasmettere alle proprie squadre, no? Beh sì, è un allenatore che fa dell'agonismo, delle ripartenze, dell'organizzazione, i suoi punti di forza, le sue squadre l'hanno sempre seguito. È un allenatore che molto spesso poi raggiunge il risultato in questo campionato, tanto di rispetto, però noi dobbiamo preparare una grande partita perché dobbiamo chiudere questo girone d'andata e cercare veramente di dare una sterzata e provare a dare una continuità di risultati con un filotto almeno di due o tre partite, ecco. Tra i tanti ex c'è Mamadou Coulibaly, che è un fedelissimo di Castori, lo ha portato con sé ovunque, Carpi, Trapani e adesso a Salerno. La curiosità è che Coulibaly, classe 99, e Vincenzo Fiorillo hanno esordito insieme in Pescara-Milan, stagione 2016-2017. Sì, fu una bella giornata perché pareggiamo comunque con il Milan, non è una cosa da poco, ecco. Fu il suo esordio, è un ragazzo d'oro, quello che ho notato negli anni che al di là che aveva qualche qualità si è migliorato tantissimo, con il passare degli anni ha avuto una maturazione importante, da Carpi in poi, ecco, passando anche per Trapani, ha fatto cose importanti, secondo me si è migliorato tanto e gli faccio i complimenti, ecco, sono contento perché comunque è un ragazzo cresciuto qui. Non fu l'esordio assoluto in Serie A per Vincenzo Fiorillo, ma l'esordio stagionale. Ti faccio davvero l'ultimissima, ci sarà secondo te da soffrire, mi pare oggettivo questo, da qui alla fine del campionato? Sicuramente, lo dice la classifica, finché non maturiamo appunto sotto l'aspetto di trovare quella continuità di prestazioni, di risultati, per forza di cose sarà battaglia fino alla fine, diversamente se riuscissimo poi a trovare appunto una continuità di risultati, di più risultati consecutivi, è una classifica molto corta che ti permette di tirarti fuori dalle zone basse, ma ora noi dobbiamo ragionare a tutti i costi per appunto per raggiungere la salvezza. A proposito, arriva Sorensen, ex Juve, lo conosci? Ma lo conosco per la carriera che ha fatto, mi ricordo qualcosa di lui quando era all'Ellas, quando era a Bologna, ricordo un difensore forte, ecco. Siamo contenti, speriamo ci possa dare una grande mano sotto tanti aspetti, visto che ha un curriculum appunto importante, quindi ci auguriamo sia un giocatore che ci potrà dare quel qualcosa in più.